Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho il piacere quest'oggi di ospitare la vice campionessa del mondo di Corsa Montagna, la campionessa europea in carica e la pluricampionessa italiana di Corsa Montagna ed anche di Corsa Campestre, Emi Colling. Buonasera. Buonasera. È un piacere averti ospite, è un piacere sentire che parli così bene l'italiano. Insomma, sei diventata una valtellinese acquisita, corri infatti per l'Atletica Alta Valtellina. Come mai questo passaggio in famiglia? Di andare, di essere con la squadra atletica Alta Valtellina è stata una scelta molto facile perché sono già amici con tanti gli atleti della squadra come Elisa Compagnoni, Elisa Desco, Valentina. quindi anche Alta Valtellina è un posto incredibile, quindi da avere il nome sulla mia divisa e tutto così è proprio bello. Come mai dall'Inghilterra ti sei trasferita appunto a vivere qui da noi in Valtellina e anzi per la precisione vivi? Sì, vicino a Sondrio, a Postalesio sì, ma vogliamo abitare un po' più in Alta Valle perché è sempre bellissimo. ma abbiamo fatto il wine trail qualche anno fa in vacanza e poi dopo questo weekend abbiamo fatto il winter trail a Santa Catarina e poi pensavo, eh, ma perché non viviamo, non troviamo una casa qui? La vita è fantastica. Da dove provieni la tua città d'origine? Da Nottingham, proprio in centro d'Inghilterra. Bello, bello, un bel posto, sempre molta natura. Sì, molto calendario, Robin Hood c'è. Certo, certo. E come ti trovi qua? Insomma, se ci vuoi venire a vivere, ti prendi bene, presumo? La qualità di vita in Italia, soprattutto in Valtellina, è molto più alta da l'Inghilterra. Le cose che, c'è la verdura, sono proprio fantastici, soprattutto in estate. Abbiamo tanti vicini da casa. Avete l'orto, quindi parlavi di... No, noi non ho peccato, ma loro sì. Parlavi di verdure, ok. Sì, fantastici. Quindi anche il cibo è fantastico. Sì, beh, insomma. E per allenarsi, fantastico. Posto strepitoso. Senza nulla togliere la cucina inglese, certo. La cucina valtellinese italiana batte 10 a 0, presumo, la cucina inglese. Una Valtellina che ti è molto cara, ti è molto avvicina, non solo per le grandi amicizie che hai, ma anche per i buoni risultati che hai ottenuto qua. Forse è il tuo campo d'allenamento in previsione sia di quelli futuri, ma anche di quelli passati, come ad esempio il campionato del mondo dello scorso anno di corse montagna, dove conquistasti la medaglia d'argento. Con ramarico, visto il gesto di Stizza, un argento che avrebbe potuto essere oro? Per tanto? Insomma, tanto distacco dalla prima? Lei veniva dall'Uganda, ma quando lei è passata, dopo il primo giro lei è passata, ma proprio in un'altra gara. Una gazzella, insomma. Altro passo, altra tecnica. Sì, quindi nella discesa lei, vum, ha detto wow, guarda. Ma poi nel secondo giro io ho fatto la salita più veloce di lei, ma non era abbastanza. Che cosa vuol dire, Emmy? Quindi questi atleti africani, fortissimi in pista, fortissimi nelle maratone, sono arrivati anche nella corsa a montagna, ma dipende anche dai percorsi, presumo. Non sono scontati loro gli extraterrestri, come si vede poi in pista e nella maratona? C'è un minimo di speranza per voi? Sì, e poi anche noi abitiamo nelle montagne, quindi noi abbiamo la possibilità di allenarvi in corsa. Speriamo meglio, essere più tecnico, più… vediamo, vediamo questo anno. Fa la differenza in salita, la salita è il terreno che prediligi? Beh, sì, mi piace andare in salita. E in discesa come te la cavi? Eh, adesso è meglio. Ma è solo tre anni che corro in montagna, quindi all'inizio stavo malissimo, avevo paura da ogni sasso di ogni certo. Ma adesso è meglio, molto meglio. Solo tre anni mi dicevi che pratichi la corsa in montagna perché tu nasci dalla corsa a campestre? Sì, ho cominciato a scuola con otto, nove anni a fare campestre per la scuola. Poi ho cominciato, sono andata in una squadra nel vicino e poi… Insomma, tanta, tanta corsa dalle tue parti. Hai vestito anche in gioventù la maglia nazionale? Sì, ma dieci, più di dieci anni fa. Beh, sì. A che gara hai partecipato con la divisa britannica? Solo in Inghilterra, sul campestre in diversi paesi. È una specialità praticata da voi? Campestre? Sì, infatti è molto… perché c'è la pista e poi c'è il campestre, due stagioni diverse, poi basta. Dopodiché, scusami, il trasferimento appunto recente in Italia, dove sempre con la corsa a campestre hai ottenuto dei bei risultati. Una grande soddisfazione per te vincere il campionato italiano per squadra con le tue compagne che poi ce lo ricorderai tu, ed anche il secondo posto nell'italiano individuale, davanti a te è sempre un'altra africana. È vero. No, è stato fantastico. Il weekend a Gubbio, a febbraio, veramente un onore correre con Elisa e Valentina, e altre Elisa anche, per vincere il titolo di squadra. Certo. Ricordiamo Elisa Adesco, Elisa Compagnoni e Valentina Belotti, le campionesse italiane di corsa a campestre. Un titolo che ha lasciato a bocca aperta tutto l'ambiente, perché insomma, tre, insomma, no, quattro atleti della corsa in montagna che vincono da campestre. Che cosa vanno detto? Abbiamo la forza, abbiamo la forza, la velocità abbiamo anche. Quindi c'era una salita nella gara, forse questo ha aiutato. Certo. Emi, ti trovi a Livigno per preparare un altro grande appuntamento? Eh sì, adesso sono qui con la squadra d'Ingliterra, della Gran Bretagna, per preparare i mondiali tra una settimana. Emi, ti trovi qua a Livigno con la tua nazionale e la nazionale della Gran Bretagna per preparare un grande appuntamento? Sì, abbiamo i mondiali tra una settimana e qualche giorno e loro vogliono essere pronti con l'altezza e tutto così, perché la gara si trova a Bulgaria in altezza. Conosci già il percorso? No, è una salita dura, forse. Non lo so. Vediamo, vediamo. In bocca al lupo. Comunque tu arrivi da una seconda piazza ottenuta lo scorso anno, sei la campionessa europea in carica. Repressione. Parti per loro? No, parto per spingere, per sapere che ho fatto tutto possibile per essere lì in buona forma e vediamo. Mi piace i caleggiare. Certo, è una cosa non da poco arrivare consapevole di essere arrivati al massimo della propria preparazione, di non aver troppo lasciato nulla, altrimenti questo poi rappresenta un rammarico nel post-gara. Ci saranno ovviamente anche le tue compagne dell'atletica alta valtellina, ci sarà Valentina Belotti, che sarà una tra le avversarie più ostiche, presumo. Lei è fantastico in salita, molto forte. Lei ha vinto il titolo di chilometro verticale. Certo, certo. È fortissima. Ci sarà anche la classifica per nazioni? Sì, sarà un po' vicino forse Italia, Inglaterra. Vediamo. Le tue compagne sono di spessore? Sono parti? Sì, credo di sì. Non conosco molto bene perché non faccio le gare in Inglaterra, ma credo che hanno un buon niveau. Emy, veniamo alla tua vita d'atleta, così come dice il nome del programma. Tu sei sportiva sin da piccolina oppure ti sei approcciata allo sport ad una certa età? No, ho sempre fatto sport, ogni sport. A scuola faccio calcio, nuoto, bici, tutto. E poi durante l'università è stato un po' duro continuare allenarsi, perché quando vai all'università sai che non tutti fanno sport all'università. Quindi lì facevo un po' meno. Che facoltà hai scelto? Tedesco. Lingue? Quindi lingue, sì. Tedesco, quindi parli alla perfezione il tedesco, te la cavi anche con l'italiano, quindi ti ha aperto le porte per la tua professione, che è quella di? Tradutrice. Tradutrice, sì. È sempre difficile con queste parole. È sempre difficile, non ti prende in giro. È l'EL che non riesco a fare. Tradutrice. Quindi per una specialità in particolare, in quale settore? Soprattutto sport. Ci sono diversi giornali tedeschi per chi lavora e faccio tedesco-inglese. E lavoro anche per diversi, tante diverse gare in Svezia, dove faccio anche svedese-inglese, per loro, quindi per avere più atleti internazionali. Parli anche lo svedese dunque? Sì, è olandese anche. Ah, ok. Quindi l'italiano è il mio peggiore. No, no, rifacciamo tutto. Quante e quali lingue parli? È un lavoro con tedesco-olandese e svedese. Wow. Soprattutto. Qual è la più difficile di queste? Italiano. L'italiano. Sì, sì. La grammatica. Ma è colpa nostra perché non dobbiamo fare più lezioni in italiano. Non è abbastanza parlare. Dobbiamo anche imparare un po' più grammatica. Beh, guarda, te la capi benissimo. E davvero complimenti davanti a Cinque Lingue Parlate. Dei complimenti davvero. È una professione che comunque ti lascia anche il tempo per allenarti, per svolgere le competizioni. È fantastico perché lavoro a distanza, quindi lavoro a casa, lavoro in macchina, lavoro nell'albergo quando vado in una gara. Quindi è anche un... Mi dà tempo da spendere... Sì, sì, per praticare le tue attività. Sì, ma penso non solo della corsa. Perché se penso solo della corsa forse è diventato un po' mazzo, ma ho qualche ora ogni giorno da non pensare della corsa. Hai qualche hobby, quindi? Eh, sì. Che cosa? Oh, no, meno il lavoro. Ah, ok. Il tuo hobby è il lavoro. Hobby. Eh, mi piace fare le foto. Sì. Quindi sì, sei fotografa. Presumo quando non sei in gara andrai comunque a vedere anche delle gare. Mi accennavi ai microfoni spenti. L'ultima di queste è stato il Chima pochi giorni fa. Una gara in cui ti è venuto un po' da piangere nel vedere il risultato del tuo allenatore, del tuo capitano Marco De Gasperi per una seconda piazza, la sua prima volta al Chima. È stata una gara sensazionale. Sì, fantastico. Come spettatore è un giornata fantastico per vedere, molto molto divertente, ma per loro durissimo. Sì, è. Ma devo dire, io ho sempre detto al Chima è troppo tecnico, non voglio fare. Ma adesso quando si vede la soddisfazione, quando arrivano, io pensi, oh my God, ok, io devo farlo questo nel futuro. Solo che probabilmente il tuo limite, proveniendo appunto dalla corsa campestre, sono appunto queste discese, scendere dalle montagne, insomma. Eh sì, anche la cresta. Le creste. Credo che è durissimo. Però con un buon allenamento. Eh sì, qualche anno di più in montagna, più esperienza. Certo, certo. Vediamo. Mi ricordo anche lo scorso anno, quel vigno, sì, proprio l'anno scorso, quando con il gruppo di tuoi amici di corsa hai provato la nostra Sky Marathon. Eh sì. Mi ricordo che è in discesa. Ma io sono girato prima. Te la sei risparmiata. Eh, è troppo tecnico. Ma è fantastico vedere. Però sarà un tuo obiettivo a breve termine, è così? Sì. No, voglio essere più, voglio essere meglio nella montagna. Sì, voglio essere un po' più decisa, un po' più coraggiosa. Sì, è vero. Certo, certo. Il tuo nome è conosciuto qui in Valtellina anche perché hai vinto un po' di gare importanti, i nostri qua a Valtellinesi, ce li ricordi? Le migliori gare ci sono nel mondo. Sì, tipo la Wine Trail. The Tube. Quella, sì, la corsa di quanti gradini su queste condotte? 2.700 cose. E questo hanno, loro hanno scritto ogni 100 gradini. Quindi quando vai, hai la testa al treno, poi si vede 100, 200, 300, 400, e penso, non finisce mai. Corse da pazzi. Quanto dura una corsa del genere? Per me 16 minuti. E a che minuto arriva la grande fatica? A che minuto l'acido lattico ti esplode dalle orecchie? Minuto e due. Subito. È durissimo. È fantastico. Sì. Anche l'atmosfera, proprio una festa. Che cosa si pensa in quei momenti lì di massima fatica? Oh, God. Non lo so, è tutto. È spento la testa. Si va avanti solo di forza e di inerzia. Però che soddisfazione poi arrivare in cima. È bello, molto bello. Gare prese d'assalto anche da coloro che non sono preparati come voi. È impressionante da fare. Ma anche ci sono tante gente in Valtellini che fanno le tubi per spasso. Certo. Ma sono passi. Incredibile. È duro. Quando accennavamo all'inizio di questa puntata, parlando tra noi due, alla tua partecipazione di queste nostre gare valtellinese, mi sei veramente piaciuta quando mi hai detto che la tua preferita rimane là. Te la faccio dire a termini. La Scarizza Pei. La Scarizza Pei. Gara della Val Furba. Sì. Organizzata dalle traglie da Forba, quindi organizzazione di gente tosta. Era una gara, sì, una vertical. No, è un percorso molto corribile, fantastico. Nei prati? Sì, bellissimo. Ci sono sentieri che mi è piaciuto tantissimo. Anche si vede il ghiacciaio. Certo. È proprio bella gara. Come una partenza inusuale, se non ricordo male, di questa partenza. Non si parte attraversando un fiume? Sì. Piccolo, sì, sì. Adesso ci sono delle acque. Sono andata la settimana scorsa con i miei genitori. Anche loro hanno fatto il percorso la settimana scorsa perché è proprio bello. Ma ci sono molto più acque adesso. C'è molta acqua, sì. Sì, sì, sì. E quindi, bene, dai. Possiamo intuire che ti trovi veramente bene qua nel nostro territorio. Tra pochissimo cominceranno a Bormio anche le Bormiadi. Le conosci? No. Le Bormiadi è una festa sportiva che dura un mese. Praticamente sono una trentina di squadre che partecipano per un mesetto. Oh, wow. Ha una ventina di specialità sportive. Te lo chiedevo, credevo che ti avessero ingaggiato sicuramente qualche squadra. Invece probabilmente ti lasciano fare... L'anno prossimo, quando abito a Bormio. Quando sarai Bormina. Uno sport faticoso, il tuo, dove l'alimentazione ha il suo grande peso. Ti vediamo in splendida forma. Sei magrissima, ma è giusto per un atleta. Che cosa mangi o che cosa non mangi? Sono vegetariana da sempre. Non ho mai mangiato cani. Ok. Ma pensiamo un po' delle cose che mangio. Certo. Ma ieri sera, per esempio, pizza. Buono. Molto buono. Quindi, sì. Insomma, si può essere atleti di altissimo livello essendo vegetariani. E dove le forze? Da dove le ricavi? Eh, non lo so. Mangio molto bene. Un'alimentazione bilanciata. Ci dici una tua giornata, tipo, sia a livello di alimentazione che a livello poi di allenamenti e di impegni? Comincio con la colazione, il mio preferito. Quindi è una colazione grandissima per tante frutte, cereali, yogurt, caffè, ovviamente. E poi faccio qualche ora di lavoro, vado a fare allenamento, poi pranzo, poi un po' di lavoro. Scusami, il pranzo può essere a base di… Insalata, insalata, grandissime, nocci, un po' di formaggio e poi pane secco. Mangiamo tantissimo pane secco perché quando abitavo a Svezia, loro mangiano pane secco. Sì. Pane bianco, pane nero, è differente? Nero, sì. Pane cereali, pane di segale, pane nero. Le farine sono bandite nella tua alimentazione? Le farine bianche? Eh, non mangiamo tanto, no. Dopodiché dicevamo, ancora un po' di lavoro, altro allenamento. Sì, poi vado spesso in bici la sera perché mi piace. Sento molto libera in bici. Certo. Meno fatica. E quindi la cena? Ancora insalata, verdure? Sì. Sì? Sì. Pesce? No, niente. Forse nel futuro perché il salmone mi sembra bene, buono. Quindi cereali e verdure? Sì. Sì, yogurt, sì. Non tanto formaggio, sì, tanto. Formaggio te lo concedi? Sì. Formaggio della Valtlina. Ah, che bravo. Sei un'ottima testimonia. Perché a Apostolesio ci sono coppie che fanno formaggio con le capri. Certo, certo. No, è anche famoso il formaggio di Delebio. Sei un'ottima testimonia là dei prodotti valtellinesi, brava Annie. È una cosa importante perché noi non mangiamo le cose che non sono vero. Non vero, mangiamo più organici. Sì. Quindi se sappiamo da dove vengono è meglio. Certo, certo. Beh, quindi è questo il segreto della tua forma fisica. Va bene. Che cosa vorrei fare da grande? Una maratona. Brava. Forse. La Wine Trail questo anno, anche nel futuro. Mi hai sempre partecipato a queste due edizioni della Wine Trail nella mezza maratona sul 21. Pensi di allargarti, guardare più là, tentare la 42? Sì, forse questo anno. Non lo so. Dipendere tanto, tanto dipendere dal mondiale. Dal mondiale. Sì, va bene? Vado a fare la maratona. Ci tenti. E poi anche una maratona nel tuo mirino? Eh sì, nel futuro. Una volta. In Inghilterra è molto importante avere i tempi su strada. Perché ogni persona parla dei tempi. Cosa hai? Cosa fa? E quindi quando loro vedono le corse in montagna non pensano della realità con la forma. È meno sentita la corse in montagna rispetto alla corsa campestre rispetto alla corsa su strada. È peccato. Perché noi non abbiamo le montagne. Sì, sì. Hai già in mente quale maratona? C'è una di queste gare che ti piacerebbe? Oppure... No, facevo Venezia qualche anno fa. Eh, già partecipato a una maratona. Sì, l'una volta. Non lo so. Ci sono tanti posti dove voglio fare gare, diverse gare. Che tempo mi scoccia a chiedertelo. Però, insomma, i nostri amici da casa, sportivi, vogliono saperlo. Con che tempo è chiusa la maratona di Venezia? Ma era qualche anno fa, quando ho appena ricominciato a fare la... La corsa è 2,50, 2. Ebbè, insomma. E un tempo sulla mezza maratona? Anche lì ho solo fatto uno nella vita. Facevo 75. Ok. Ma appunto per... 72 voglio fare. Certo, certo. Nel futuro. Corri da moltissimi anni e il fisico ti assiste, nel senso... Hai mai avuto infortuni? Hai mai avuto... Appunto, infortuni che si ripresentano ciclicamente per uno sfruttamento del fisico? È difficile con la corsa. Sì, sono... È molto... Sono molto pericoli per essere infortunati. Quindi, forse, avevo problemi con i piedi e adesso è meglio, ma è noioso quando succede una cosa. Perché non c'è qualcosa da... C'è solo la riabilitazione e tutto così, ma è noioso quando non puoi correre, quando non puoi fare le cose che ti piace fare. Certo. Hai un lavoro che ti tiene occupata, dunque magari riesci a sopperire con quello, però... Beh, sì. Hai mai avuto un infortunio grave? No, ero qualche mese con i piedi fermati, quindi facevo più bici. Non ti sei fermata, insomma? No, sarà impossibile, credo. Devo essere fuori, devo avere aria fresca. Lo sport nella DNA. Eh sì. E mi siamo in conclusione. Ti ringrazio davvero di cuore per aver partecipato, per aver ricavato qualche... Una mezz'ora del tuo tempo in Raduno Quellivino per noi. È stato un piacere, un grossissimo bocca al lupo per gli imminenti campionati del mondo. Grazie. Grazie. Grazie a Michealini, grazie. È tutto per questa sera. Grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Arrivederci.